Carissimi sacerdoti, cari fedeli di Viterbo, a tutti voi un cordiale saluto e l'augurio di una settimana santa da vivere insieme con il Signore. E' strano, per la prima volta, credo, nella storia delle nostre comunità non avremo la possibilità di partecipare direttamente alle varie celebrazioni. Tutto questo è motivo di tristezza e di disagio, però può essere anche un'opportunità. Riscopriamo le nostre famiglie come piccola casa domestica, dove ciascuno di noi singolarmente, insieme con gli altri componenti della famiglia, può ritrovare e ritagliare momenti di preghiera, di ascolto, di colloquio con il Signore. Sarà possibile seguire, mediante i media, i social, le varie celebrazioni. Uniamoci a queste celebrazioni, viviamole come se fossimo presenti. E questo ci permetterà di alimentare la fiducia e la speranza. Due atteggiamenti fondamentali in questo periodo di difficoltà. Ricordiamo sempre le ultime parole del Signore. Non abbiate paura. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E in questi giorni della Settimana Santa potremo toccare con mano questa presenza, questo amore del Signore che dona la vita per noi. Viviamola così, all'interno delle nostre famiglie, con un profondo clima di raccoglimento, di fiducia e di speranza. Una fiducia e una speranza che sono anche sostenute dalla generosità di tante persone. Vorrei che pregassimo come segno della nostra gratitudine per tutti coloro che ci permettono di vivere e di superare questo momento di difficoltà. Penso ai medici, agli operatori sanitari, a tutti coloro che lavorano nei nostri ospedali. Penso alle tante forme di volontariato, dalla protezione civile alla Croce Rossa, a tanti nostri giovani. Penso all'inventiva di tante persone che cerca di rendersi presente presso gli anziani, presso gli ammalati, perché a nessuno manchi questa consolazione, a nessuno manchi questo affetto non solo dei familiari ma dell'intera comunità civile e religiosa. Riscopriamo questo senso di solidarietà. È finita l'emergenza, diventi il filo conduttore dei nostri rapporti interpersonali. Avremo bisogno dell'impegno e del coraggio di tutti per rimettere in piedi le nostre attività, per sostenere le tantissime persone che sono rimaste e forse rimarranno senza un lavoro e senza la possibilità di mantenere se stessi e la propria famiglia. La solidarietà di questi giorni, che ci permette di limitare e speriamo presto di superare il contagio, diventi il nostro impegno per ricostruire comunità ecclesiali e comunità civili migliori. A tutti l'augurio di una settimana santa in cui possiamo fare esperienza di un amore che dona la vita, quello del Signore per noi, e possiamo imparare che proprio perché assimilati a Cristo dobbiamo condividere questo amore verso gli altri fino al dono della vita. La mia benedizione e la mia preghiera per ciascuno di voi e per tutte le nostre comunità.